Termino questa parte con alcune considerazioni sulla questione dei circa 400.000 soggetti risultanti da una tabella elaborata dall'Inps, qui allegata e quindi agli atti, e che ha impropriamente alimentato la polemica dei giorni scorsi. Il dato di 400.000, essendo stato interpretato come il numero dei lavoratori da salvaguardare ciò che non è. Sono questi i numeri forniti dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero sul tema degli esodati. Oggi alla Camera, così come ieri al Senato, il Ministro è tornato a difendersi dall'accusa di aver nascosto il vero numero dei lavoratori rimasti senza lavoro e senza pensione. Ora spingo con forza ogni insinuazione che io abbia fornito informazioni non vere relativamente al numero di lavoratori interessati. Questa non è mai stata una mia abitudine e non voglio certo infrangere questa mia regola in questa breve parentesi da Ministro Tecnico. O che io abbia inteso sottrarre dati alla pubblica conoscenza e discussione. Al Ministro hanno replicato tutti i gruppi parlamentari. Ecco cosa hanno detto Giuliano Cazzola del PDL e Cesare Damiano del PD. Il Popolo delle Libertà chiede al Governo di trovare una soluzione ragionevole che dia una risposta ai problemi già critici in un arco di tempo di alcuni anni, programmando nello stesso tempo un percorso che tranquillizzi gli italiani e che eviti a questo Paese, e se non sarà così, purtroppo la conseguenza sarà questa, una campagna elettorale sugli esodati. Ministro, noi siamo di fronte ad una situazione alla quale bisogna porre riparo. Anch'io condivido il fatto che sarebbe meglio intervenire con una misura strutturale, ma intanto noi abbiamo bisogno di un provvedimento. Lei dice che non mi bastano pochi giorni. Noi diciamo, ministro, che dal mese di dicembre, che le ripetiamo che sarebbe stato necessario fare questo provvedimento. Assente invece la Lega Nord, che prima espone un cartello di protesta contro il ministro Fornero e poi abbandona l'aula. Onorevoli colleghi, vi prego di togliere immediatamente quel cartellone. Prego i commessi di provvedere. Intanto la strada della riforma del lavoro, che il governo vorrebbe approvata in tempo per il Consiglio europeo, si fa in salita, con i segretari Bersani Alfano che chiedono modifiche al testo. La Camera ha approvato il disegno di legge per il riordino della protezione civile, che passa ora all'esame del Senato. Tra le novità del provvedimento, anche l'abrogazione della norma che consentiva al Dipartimento della Protezione Civile di organizzare i cosiddetti grandi eventi. Tanti gli ordini del giorno accolti dal governo, tra questi anche quello bipartisan, che estende le agevolazioni fiscali previste per il risparmio energetico alla prevenzione antisismica sugli edifici. Riforme costituzionali al Senato. Nulla di fatto per l'articolo che prevede la riduzione del numero dei parlamentari. Il presidente Schifani precisa che si tratta solo di un rinvio tecnico, ma puntuali scoppiano le polemiche. PD e Italia dei Valori denunciano un accordo tra PDL e Lega. Approvazione veloce delle norme sul Senato federale in cambio dell'ok al semipresidenzialismo, tanto voluto da Angelino Alfano e Silvio Berlusconi.